Buongiorno a tutti, è abbastanza presto stamattina, siamo ancora provati dalla Rata del Coyote per la rubrica cioccolata in Russia, oggi esageriamo un nuovo Ticas giallo, sembra qui Bajigi e adesso ci compriremo con voi, con voi come al solito vi è sempre uguale però dentro è una montagna di caramelli e una montagna di Bajigi è sempre uguale un Ticas, praticamente in Russia cambia i voli, ma la roba è sempre uguale, dei cavalli